L'Oropiana prende le distanze da Vladimir Putin che si è presentato sul palco dello stadio di Mosca per parlare alla nazione indossando un parca da 12.000 euro. L'azienda che dal 2013 fa parte del gruppo Moet Louis Vuitton e che ha sede a Quarona e uno stabilimento a Verrone ha immediatamente fatto sapere la sua posizione come ha sottolineato Pierluigi l'Oropiana. Abbiamo subito preso le distanze, detto e chiaro da che parte abbiamo deciso di stare. Putin dovrebbe riflettere su ciò che sta facendo vivere al popolo ucraino. L'Oropiana ha interrotto le forniture in Russia da inizio marzo, adoperandosi per aiutare la gente dell'Ucraina attraverso diverse delle associazioni impegnate nella solidarietà di questo tremendo momento. Il parca blu indossato da Putin non sarebbe stato comunque scelto a caso. Il giaccone sarebbe servito anche, secondo quanto riportato da alcune media internazionali, a mascherare un giubbotto antiproiettile. Quindi, dietro alla scelta di sfoggiare un look molto sportivo e abbondante, ci sarebbe stata anche una motivazione legata alla sicurezza del presidente, che sotto i vestiti avrebbe indossato un giubbotto antiproiettile per eventuali attentati.